Nei primi sei mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 9,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 18,2 miliardi dello scorso anno e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Si tratta di un nuovo record per la misura a sostegno delle famiglie. Lo rende noto l'Inps che ha pubblicato i dati dell'osservatorio statistico sull'assegno unico universale che include anche i nuclei beneficiari per settori di reddito di cittadinanza. Sono oltre 6,2 milioni le famiglie che hanno ricevuto l'assegno unico nel periodo per un totale di 9,8 milioni figli. Nel mese di giugno 2024, sottolinea l'Istituto di Previdenza, l'importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta sui 170 euro.